Quando è arrivata la telefonata proprio il giorno di Natale, quasi non ci volevo credere, ritrovare la nostra adorata Pina è stato il regalo più bello. Antonio Schiavone, ingegnere siciliano con Casa Milano, ancora si emoziona ripensando coi momenti. Pina, pastore maremmano di otto anni, è tornata a casa. Si era persa a inizio settembre in Valdidentro. Il giorno della partenza, dopo una breve vacanza in Valtellina della famiglia milanese, il cane era fuggito. L'avevamo adottato in un canile a Roma, dopo un passato di randagismo e maltrattamenti, spiega Antonio. Non sopportava gli spazi chiusi e quando è arrivato il momento di farla salire in auto è scappata, nei boschi di Cimapiazzi. Abbiamo lanciato appelli sui social, affisso cartelli sui piloni della luce e sulle bacheche dei paesi di tutta l'Alta Valle. Ho usato il mio drone per cercarla, tutto inutile. A trovarla, dopo quasi quattro mesi, a 50 chilometri dal punto in cui era scomparsa, è stato un militare del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Bormio, Angelo Fachin. Girovagava lungo la strada al passo del Bernina, in Svizzera. L'ho riconosciuta subito perché avevo visto le foto, racconta. Non è stato facile avvicinarla, ma poi si è lasciata carezzare. Quando ha capito che non volevamo farle del male, si è accasciata al suolo, era stremata. L'ho portata a casa, ho chiamato Antonio, tre ore dopo, era già venuto a prenderla. Ora Pina sta bene, il veterinario l'ha visitata, deve solo rimettersi in forze. Una favola di Natale con il lieto fine tanto atteso.